Buongiorno a tutti, oggi vi spiegheremo come bere un caffè in questa bellissima macchina. Vi serve un dobbone, qui leggete le istruzioni, inserite la vostra ammettita e sollevate il livello. Abbiamo un credito di 1 euro. Ora qui trovate diverse opzioni, dovete scegliere quella che fa al caso vostro. Noi sceglieremo un caffè espresso corto. Il numero da digitare è 61. Quindi sulla tastierina numerica selezionate 6. Il macchinetto fornisce immediatamente il resto che dobbiamo prelevare. Preleviamo il nostro resto e attendiamo che questa meravigliosa macchina faccia il suo lavoro. Potete osservare che cosa accade. Vedete che il caffè viene erogato dolcemente. Una deliziosa pioggia marrone che riempie poco alla volta il nostro bicchiere. Ecco il nostro caffè. È pronto ma ancora dobbiamo attendere. La macchina adesso è pronta. Possiamo prelevare il nostro caffè. Con la paletta. Mescolare e gustare. Scotta. Grazie a tutti e al prossimo video. Grazie a tutti.